Musica Parte dal presidente del lancio in Molise, Pompidio Sciulli, la richiesta di attivazione della procedura ai fini del riconoscimento dello stato di calamità. L'emergenza neve che ha colpito il nostro territorio in questi giorni, si legge nella nota di Pompidio Sciulli, inoltrata al presidente della regione, al consigliere delegato per la protezione civile e al presidente del lancio, ha portato quasi tutti i comuni molisani a lavorare con grande impegno per affrontare l'emergenza e garantire sicurezza e percorribilità delle strade interne di competenza. Instancabilmente, continua Sciulli, operatori degli enti e delle ditte esterne sono stati operativi per lo sgombero neve. Intere comunità sono rimaste isolate, la viabilità è difficoltosa e vi sono interruzioni di energia elettrica e del flusso idrico. I comuni, si legge ancora nella nota del presidente dell'Anci Molise, dispongono di sempre minori risorse economiche ed umane per far fronte all'eccezionalità dell'evento meteorologico che ha colpito gran parte della regione. Tutto ciò premesso, conclude Sciulli, chiedo che venga appunto attivata la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità. Servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dai carabinieri in tutta la provincia di Isernia. Nel corso delle operazioni militari del nucleo radiomobile hanno rintracciato a Sesto Campano un quarantenne di origine rumena ricercato da alcune settimane per una rapina commessa ai danni di un turista nei pressi della stazione Termini di Roma. A segnalare la sua presenza sul territorio della provincia Pentra, i carabinieri di Formello, che erano da qualche giorno sulle sue tracce, se ne ha l'azione sfociata nell'arresto del quarantenne rumeno bloccato dai militari Zernini nella frazione di Roccapipirozzi. Dopo le formalità di rito, il malvivente è stato trasferito nel carcere di Ponte San Leonardo. Ma il bilancio del servizio straordinario di controllo predisposto dall'arma Pentra nelle ultime ore parla anche di 80 veicoli sottoposti a verifiche, 110 persone identificate e nei casi sospetti di diverse perquisizioni effettuate per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Infine, certamente amministrativi e in materia igienico-sanitaria, sono stati disposti presso otto locali pubblici, mentre 25 sono le persone sottoposte ai domiciliari e altre misure di prevenzione che sono state sottoposte a controllo. Arriva a poche ore dall'Assemblea Generale di Confindustria il commento del segretario generale della Wilmolise, Tecla Boccardo, sull'esito dei lavori della stessa Assemblea. Fra area di crisi complessa e non complessa, con il master plan per il sud e il patto firmato solo qualche mese fa con il governo, osserva Boccardo, grazie alle risorse europee ci sono tutte le condizioni perché la strada della ripresa economica e occupazionale possa essere intrapresa. Ma questo non basta. Secondo il sindacato, corrono altri due fattori senza i quali nulla di positivo potrà realizzarsi. Da un lato, sostiene Boccardo, serve maggiore considerazione per il ruolo e la funzione delle parti sociali. In secondo luogo, occorre maggiore coraggio da parte degli stessi imprenditori. Chi per nascita o per abilità si trova a fare l'imprenditore, prosegue il segretario generale della Wilmolise, lo faccia fino in fondo, investendo anche il proprio capitale, senza aspettare di operare solo con soldi pubblici o a fronte di superagevolazioni. Non dobbiamo pensare alle opportunità che ci sono oggi in Molise e ancora a Boccardo solo per attrarre imprenditori italiani e stranieri. Anche noi abbiamo capacità imprenditoriali, intelligenze, giovani intraprendenti e industriali di lungo corso. Alle loro iniziative, conclude il segretario della Wilmolise, il sindacato guarda con fiducia. Torna al Neuromed il Lorenzette Memorial. Per il terzo anno consecutivo, il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCS di Pozzilli promuove un corso di aggiornamento sulle nuove prospettive delle malattie emorragiche e trombotiche. L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 12 gennaio, a partire dalle 9, presso il Parco Tecnologico del Neuromed. Alla presenza dei maggiori esponenti italiani sulla coagulazione del sangue provenienti dai più prestigiosi istituti e università, oltre che dal Neuromed, l'incontro sarà anche occasione per ricordare Roberto Lorenzette, ricercatore noto in Italia e all'estero nel campo delle mostasi e della trombosi, sconvarso prematuramente tre anni fa. Lorenzette si era formato e aveva lavorato per oltre 30 anni con il gruppo di ricercatori che costituisce il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed. L'assessore comunale allo sport presso il comune di Sernia Antonella Matticoli ha dichiarato che a breve partiranno i lavori per migliorare la fruibilità sia del palazzetto dello sport che dello stadio Lancellotta. Come precisa l'assessore, si tratta di piccoli ma significativi interventi, il rifacimento della rubinetteria e delle docce, l'installazione di seggiolini sugli spalti, l'accomodo degli spogliatoi, il potenziamento dell'illuminazione e l'acquisto di nuovi materiali per ottimizzare le potenzialità delle strutture. Sin dall'inizio del mio mandato, ha detto Matticoli, ho fatto una promessa agli Sernini, quella di sostenerli nelle loro attività, cercando di creare le condizioni affinché tutti possano avere le medesime possibilità di praticare il proprio sport.